Mi ha dovuto fare, mio padre è così, solo in scala più, certo. La sua società si rivelò una truffa pirata e tante brave persone persano tutto quanto. Persone che conoscevo da me. E tuo padre? Sto scontando otto anni nel carcere di Portis. Non parlo con lui da tre anni. Vedi raga, non è la tua famiglia che non ha letto insieme. È la mia. A tutte le unità, dirigerci tra la 32esima e la prima per rivoluzione dell'assimato del Matthew Day. Come sta a sottare?